Buonasera carissimi! Come state? Siete pronti? Buonasera carissimi, come state? Le sfide sono ciò che rendono la vita interessante, superarle è ciò che le dà significato. Che viene? Le sfide sono che che rendono la vita interessante, superare e che che rendono il significato? giugno no ma male come man aspetta sì no il 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 2. 2. 3. 10. 12. 14. I'm not going, I'm sorry, Voi ci domandeciano al prossimo e io tolare il motivo di motivazione e vi mostro, vi mostro in qualche video e vi mostro anche a domani. Ma ora, adesso, inizia andare sempre a letto molto presto. Quindi, io ho detto... Sì, ora, 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 ora ora, 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 ora. e se stavano per la sua vita, se non si riuscano a costruire e si riuscano, non si riuscano a costruire e se stavano sempre sempre molto presto e non è venuto e se stavano molto presto è venuto poi la mia moglie il caso di roma 00, 60 anni, in una periodica nel sudorevole. . Hai risponato che il caso di roma 00, che invece di roma 00, che non si romao 00, che non si hanno fatte di roma 00! Non si era il caso di roma 00! Nel caso di roma 00, se roma 00. Perché il caso di roma 00, che non si roma 00, si era il caso di roma 00, e poi non si tratta da una lina 00, E' un certo punto che vuole sempre che il mio tempo si fa per essa vita poi non ho scoperto C'è un certo periodo che arrivo e di fatto in modo che il mio tempo è necessario ma è che il mio tempo minimo deve aprire a lui anche ma è molto prima quello che v save per me Il video di mudam sazoci salia natre. Mangiava pochissimo per dimagrire. Mangiava pochissimo per dimagrire. Ciam da salia ciotas, c'è una scelma. Mangiava pochissimo per dimagrire. Mangiare, nazaris, zemna ciamma. Ciascuno rossi ciam da mangiava. Pocissimo salia ciotas ristuis per dimagrire. C'è una scelma. Mangiava pochissimo per dimagrire. C'è una scelma. Lei mangiava pochissimo per dimagrire. Ciam da salia ciotas, c'è una scelma. Vesame, c'è una scelma. Pretendevi di fare sempre di testa tua. Ciam da salia ciotas, c'è una scelma. Tò si chiedeva, c'è una scelma. C'è una scelma. T'è una scelma. T'è una scelma. non lo so. Pretendevi di fare sempre di testa tua. Sì, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so. Ora, ora mi chiedo, mi chiedo, non lo so. Gli occhi il sabato sera. Gli occhi, non lo so, non lo so. Gli occhi il sabato sera. Gli occhi il sabato sera. Gli occhi il sabato sera. Noi giocavamo il sabato sera. Gli occhi il sabato sera. Ora mi chiedo, non lo so. Gli occhi il sabato sera. Gli occhi il sabato sera. Gli occhi il sabato sera. Se non lo so. Sì, non lo so. Ora, ora mi chiedo, mi chiedo. Mi chiedo, non lo so, non lo so. Mi chiedo, non lo so, non lo so. Non lo so. Tutte le mattine, lei, Marcia Savvari, si alzava alle sei. Tutte le mattine, non lo so, non lo so. Non lo so, come chi dice, la carta di Slavena Qui dice. Tutte le mattine, lei si alzava alle sei. Non si dice, non lo so. Non lo so, però non lo so. Qui dice, che dice, che dice, che dice, che dice, che dice che dice. Tutte le mattine, si alzava alle sei. Che dice, cosa dice che dice che dice, ragazzi, 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 e abbiamo detto che ogni domenica è arrivata a 10, ogni giorno, ma anche se gli stessi, tutte le mattine quando la ragazza di ragazza si alzava alle 6, e poi si fanno in casa. Come vorrei, come dicevo, tutte le mattine si alzano, lei si alzava alle 6, perché è un po' si alzava alle 6, certo però si si va a venire da una persona che ha detto il fatto che si era più grande questa cosa ne ha detto? Non si era che no era il fatto il fatto che a Roma era più grande la sua come doveva varia e aiutato delle diverse cose, alla fine è stata Perchè quando citi questo titolo, non è un problema Perchè l'mezzo. Ciao a tutti! Viva questa, chi ha detto? certo di starea o anche come avevo sopito come in UKe come hai uncomposto e due manifestazioni istrategia reale ovviamente i nostri amici negative se già se ricordiamo mia è nanni Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il corso gratuito è www.mesmerism.info e non è fondante che il suo lavoro di più Hebdova, non è un'e nemmeno… Nel mio video, il suo lavoro è un'e un'e, e il mio lavoro è un'e sempre un'e… e il mio lavoro è un'e è un'e… è un'e… Cosa è un'e… …dia… 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 Adesso.